Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video Io... boh Cioè, l'unico modo per cominciare questo video è dicendo io boh Perché tutto quello che sta accadendo attorno al Cagliari a tema calcio-mercato Ha veramente dell'incomprensibile E questa è proprio la ciliegina sulla torta Andiamo con ordine Allora, tutti noi sappiamo che la coppia di difesa dei nuovi acquisti lascia desiderare Sono io il primo a saperlo, nonostante mi piacciono sia Vietesca che Zitiagos Lo ripeto, non mi vergogno Io penso che se entrano in condizione possono essere due centrali difensivi che possono dire la loro Mi potrei sbagliare ma... Sono abbastanza convinto di questo Però è un dato di fatto che al momento attuale non stiano rendendo Forse Vietesca va leggermente meglio di Zitiagos Ma grosso modo stiamo lì Ecco Tenendo conto di questo La... Non lo so Se ne esce Alexa, vabbè Mi ha fatto più un corpo Tenendo conto di questo Cosa ha deciso la dirigenza? Vendiamo col Danica E io dico Cazzo C'hai due centrali buoni Il rosa Due Anche perché Non so se è così Non ho ancora controllato Ma a me Un'applicazione mi ha detto Che Capradossi si è svincolato dal Cagliari Quindi È diventato uno svincolato Ma non so se sia effettivamente così Ma Penso di sì Visto che comunque spazio sul campo non lo stava trovando E ci può anche stare come scelta Quindi Capradossi Via Hai in rosa Azzidiacos E Vietesca Che non stanno rendendo Quanto dovrebbero Hai un solo Una sola certezza Che è Dossena Come difensore centrale E tu Vai a prendere L'unico altro giocatore Che in difesa Può Fare il suo Può fare bene Per darlo A una squadra Che Se rimani in A L'anno prossimo Lotterà per il tuo stesso obiettivo E se Andrà in B Tu avrai aiutato a salire in A Perché è il Como Quindi Che senso ha Quest'operazione Perché Probabilmente Perché Goldanica Tra i centrali È quello Di cui Tu ti puoi privare E che ha ricevuto Delle offerte Magari al contrario Di un Vietesca O di un Azzidiacos Che le offerte Non le hanno ricevute Però Perché Cioè Il reparto Più disastrato Del Cagliari È proprio la difesa Perché tu Vai a dare via Una certezza Perché è una certezza Io Questa domanda Me la sono fatta E sto provando Tutt'ora A dargli una risposta Una Potenziale risposta Che mi sono dato È il fatto Tra l'altro Qui Zoommo un pochino E non ve lo faccio vedere Pure a voi Zoomiamo un pochino Ok Ve lo faccio vedere Anche a voi Una potenziale risposta È il fatto che Goldanica Andrà in scadenza a giugno Potenziale risposta Perché Io non so Quanto guadagni Goldanica E sono abbastanza sicuro Che Il suo stipendio Non sia più di tanto esoso Quindi Offrirgli un rinnovo Innanzitutto Mi sembrerebbe La base Per quello che ha fatto E secondo poi Ne gioverebbe Sia lui Che il Cagliari Quindi Il fatto che lui Vada a scadenza a giugno Non mi sembra Una motivazione valida Per andarlo a cedere Ma a parte questo Io non trovo altre motivazioni Per andare A cedere Goldanica Non penso Esistano E poi Se tu Ritorno Tra l'altro qui Se tu Mi vai a cedere Goldanica Io voglio Che tu Questo posto Me lo rimpiazzi O che magari Prima prendi Il rimpiazzo Per il giocatore Che stai cedendo E poi vendi Lui Se proprio devi fare Una cosa simile Nulla di tutto questo Sta accadendo Nulla Assolutamente nulla Il Cagliari In questa sessione Di calciomercato È di un immobilismo Imbarazzante Ma veramente Imbarazzante Cosa da Se ci avessi Mi metterei Mani nei capelli Perché Non Non c'è Un criterio Non c'è Un senso Non c'è Nulla Di tutto questo Ma zero E lì Poi Incomincia A farsi Delle domande Lì ci Incominciamo A farci Delle domande Perché la dirigenza Altro fate un accenno Un po' alla luce Me l'ho scordato La dirigenza Cosa sta facendo Bonato Cosa sta facendo Come al solito Stiamo vivendo Una sessione Di calciomercato In cui i nomi Rappresentano Veramente La qualunque La qualunque E la maggior parte Di questi Tra l'altro Non presenta Nemmeno Il nome Di un difensore Io credo che A parte Tolto Palomino I primi giorni Di mercato In cui si era vociferato Un possibile Ritorno De fiamma Del Cagliari Su di lui A parte Palomino Non si sia Fatto Nessun nome Che riguardasse La fase difensiva O un giocatore Di difesa In particolar modo Un difensore centrale Quindi Di cosa vogliamo parlare Cosa cazzo Stiamo facendo Ragazzi Il calciomercato Praticamente Finisce Tra due giorni Tra due giorni Tu hai una rosa Da dover rinforzare Perché la devi rinforzare E non stai Muovendo Un dito E come ho già detto Questa Questa mossa A me Significa Che tu Vuoi Fare in modo Che la gente Accetti a forza Gli acquisti Che tu hai fatto Nel calciomercato estivo Ma se gli acquisti Che tu hai fatto Nel calciomercato estivo Non stanno rendendo Quanto dovrebbero E che quindi Potenzialmente Potrebbero Non farlo Anche per tutto Il girone di ritorno Il tuo mobilismo Creerà soltanto danni Solo e soltanto danni Perché Come può essere Che da qui A maggio A Zidiago Se Viedesca Diventano I due centrali Migliori Di tutto il campionato E dubito fortemente È altrettanto Probabile Che da qui A fine campionato A Zidiago Se Viedesca Continuino a giocare Come hanno giocato Fino adesso Che vuol dire Che giocano male Tu Hai avuto Un mese Per poter rimediare A un errore Che tu hai fatto Nel calciomercato estivo E non voglio Penalizzarti Per l'errore Che hai fatto Nel calciomercato estivo Perché ci può stare Non tutti i giocatori Che vengono acquistati Si riveleranno Poi Dei fenomeni Quindi Altamente comprensibile Un errore Sarebbe meglio Da evitare Ma lo posso comprendere Tu hai avuto Un mese Per poter Rimediare A questo errore E hai deciso Di non fare Nulla Tu hai Deliberatamente Scelto Di stare A guardare Ed è lì Che io Mi incazzo Perché tu Le possibilità Per rimediare Ce le avevi Ce le avevi E questa è la cosa Che io non tollero Nemmeno a dire Nemmeno a dire Che tu Dai via col Danica E ti vai a riprendere Dal Venezia Altare Perché al contrario Di Lella Che è stato ceduto A titolo definitivo Al Venezia Altare è in prestito Il Venezia Altare Te lo ridà col cazzo Ma giustamente Giustamente Perché Altare È altare Cioè È imbarazzante È imbarazzante Sapere Che tu In serie B Avevi Un tridente Di difesa Con Goldaniga Altare E Dossena Che per carità Le cappellate L'hanno fatte Anche loro Ce mancherebbe Ma tu in serie B Avevi Altare Goldaniga Dossena Tu adesso In serie A Hai Dossena Che è l'unico punto Fermo Della difesa Azzidiagos Che è quello Che combina Più danni Viedesca Che ogni partita Rischia De fatte Rimani in 10 E basta Perché Chi altro Metti come centrale Obert A mio parere Obert Non è ancora pronto Ha avuto modo Di giocare Io sono sempre stato Favorevole All'utilizzo Di giovani Assolutamente Ma secondo me Obert A più riprese Ha dimostrato Di avere delle lacune Poi è chiaro Che è da un po' Che non lo vediamo In campo E se non mi sbaglio Quando lo vediamo In campo Lo fa sulla fascia Sinistra Quindi Ci potrebbe stare Rivederlo Come Come centrale Ma tu Seriamente Non ti muovi Sul calciomercato E non fai Un acquisto In difesa Perché Vuoi puntare Su Obert Ragazzi Qui siamo Al limite Dell'indicibile Siamo Vergognosi Non è Possibile Creare Dei Presupposti Così Cioè È veramente Tutto assurdo Tutto Completamente Assurdo Scusate Perché Non Non può Esistere Ok C'è stata La questione Di Riva Che Penso Abbia Congelato Un po' Il tutto È ok Ma Comunque Tu per Tre settimane Buone Non hai fatto Assolutamente Niente Tu sei Stato A guardare Cioè Poi dite Perché io Ho soprannominato Bonato Sor Pupazzo È un pupazzo Ma che sta a fare Bonato Cosa sta facendo Ma non solo Bonato Tutta la dirigenza Cosa sta facendo Se sta a girare i pollici Sta a fare le carriere Su FIFA Dove almeno Lì possono Spengli I soldi Poi Per carità Indice Indice De liquidità Quanto vi pare Ma siate Limpidi Siate Trasparenti Ditelo Fin da subito Non compreremo Nessuno Almeno uno Si mette l'anima In pace Io Molti potrebbero dire Eh ma la società L'ha detto La società Non l'ha detto La società Ha detto Prima si vende E poi si acquista E se tu mi stai vendendo Un elemento Come Golda Nica Negli ultimi Tre giorni Di calciomercato Tu Conoscendo La dirigenza Che hai Non fa in tempo A prendergli un rimpiazzo Perché non fa in tempo Io C'ho ancora in mente Indelebile Una live Di calciomercato Che Facemmo con Andrea E se non mi sbaglio Anche Mattia In cui Cofì Giocatore Che all'epoca Se non erro Militava al Genua Era un giocatore Del Cagliari Era preso Praticamente L'ultimo giorno Di mercato Ha detto Di no Ci ha ripensato Ci sono Nel calciomercato Anche le variabili Impazzite E noi Ci avemo La calamita Per queste variabili Impazzite Quindi cosa Abbiamo deciso Di fare Cosa Vogliamo Fare Perché questa situazione Così non va bene E dobbiamo rimediare Ma così Più che rimediare Stiamo a far danni Solo E soltanto danni Io sono veramente curioso Di vedere Come si evolverà La situazione Sono fermamente Convinto Che comunque Il 31 Fino al 31 Gennaio Non arriverà Nessuno E tutti i nomi Saranno In uscita Tra l'altro Tutti i nomi Che dovrebbero essere In uscita Non ci sono Perché Ci sono dei nomi Che secondo me Andavano ceduti Ma che tuttora Sono in rosa Non lo so Ditemi voi Cioè se questo È fare calcio Mercato Se questo È fare calcio Stiamo messi male Stiamo messi male Perché così Una squadra Di serie A Non si gestisce Ma tantomeno Una di serie B O una di serie C Parlamose chiaro Questo Non è modo Di Di fare calcio Mercato Non è modo Di fare calcio Non è modo Di gestire Una società Siamo vergognosi Penso che il riassunto Di questo video Possa essere tranquillamente Siamo vergognosi Sì E niente ragazzi Il video finisce qui Fatemi sapere Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate E detto questo Noi ci becchiamo In un prossimo video Bella